Buongiorno ragazzi, come state? Volevo spiegarvi come cancellare i post che non si riescono a cancellare con la funzionalità timeline se l'avete aggiunta grazie in anteprima a uno dei miei video che vi avevo spiegato come fare Bene, per andare, per vedere dove avete tutti i post cliccate, dovete essere sul vostro profilo cliccare su visualizza attività dopodiché, innanzitutto è una specie di registro quindi tutte le cose che scrivete compaiono in questo registro vostro dopodiché se volete eliminare cliccate sulla freccia alla vostra destra è possibile scegliere cosa mostrare nel caso volete cancellare o eliminare il post basta cliccare su elimina post Bene, vi ringrazio per l'attenzione cordiali saluti di Francesco Ok, vi ringrazio per l'attenzione grazie